C'è chi vorrebbe archiviare il prima possibile il 2013, ma c'è chi vorrebbe che quest'anno non finisse mai. Un anno di vittorie e sconfitte, si sta per concludere e domani con la trasmissione Un Anno di Sport, curata dall'assistata giornalistica sportiva di Telemolise, ripercorreremo gli avvenimenti sportivi di quello che da mezzanotte sarà il vecchio anno. Dalla salvezza in Lega Pro conquistata sul campo e dal campo basso di Salvatore Vullo, Resavana dal duo Capone di Palma, che hanno portato il campo basso al quarto fallimento in 23 anni. Rosso-Blu che grazie ai tifosi hanno sensibilizzato l'imprenditoria locale e sono ripartiti dall'eccellenza. Passando poi per la storica promozione della Isernia Calcio 5, dopo anni il Molise è tornato a calcare i parchè di Serie A2. La Serie D, l'eccellenza, la promozione e le squadre molisane sotto canestro. Naturalmente non solo sport di squadra, ma spazio a tutti quegli sport definiti minori che hanno dato al Molise grandi soddisfazioni. Mese per mese tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato i 12 mesi del 2013. Per il podismo a settembre l'edizione numero 30 della Tappino Altilia, la mezza maratona più suggestiva d'Italia organizzata dall'atletica Molise Amatori. Ancora a novembre il classico appuntamento con la sua e giù il gruppo sportivo Virtus ha organizzato l'edizione numero 40, gara amatoriale entrata a far parte di diritto della tradizione regionale. Il calcio giovanile con il torneo di Corpus Domini, il nono trofeo San Giorgio, organizzato e disputato dal Mirabello Calcio. Ancora ciclismo, nuoto Cristiano Angioglu, che con la nazionale italiana ha conquistato diverse medaglie. Scacchi, con il ventesimo torneo internazionale di scacchi città di Campobasso. Spazio e memori al Scorrano e Scasserra, trasmessi in diretta dalla nostra emittente nel mese di giugno. Poi naturalmente l'automobilismo, con il memori al Gianluca Battistini e Fabio Emanuele, che per la quarta volta si è laureato campione italiano slalom. I personaggi ospiti in Molise, da Giovanni Malagò, presidente del CONI nazionale, a Gigi Deccanio, tecnico del Catania, per il basket Simone Pianigiani, coach della nazionale italiana e tanti altri. Ci fermiamo, non sveliamo altro. Queste sono solo alcuni degli avvenimenti che hanno caratterizzato il 2013. Domani, negli orari del TG Sport, sulla prima rete alle 14.30, alle 20, alle 23.30, un anno di sport. Non ci resta che augurarvi buona visione e buon anno.